Ciao a tutti ragazzi e ragazze Soprattutto ragazze Ok ok ok, boss come dici te eh? Infatti Servo Oh pezzo di merda, non mi di chiamare servo che ti burto fuori dal clan eh? Non me ne frega del tuo clan gay Cazzo! Ora basta fare i frogini, siamo qui per presentare il nostro nuovo amico Ghost Non per fare i crincoglioniti o eccetera Ghost Dici proprio Ghost? Sì coglione, dico proprio Ghost Ghost Ma Ghost Assia il pezzo di merda di un fantasma Che rubava il cibo a mia nonna dall'aranger over viola di mia nonna Quando stava arrivando dal Vietnam Cazzo quante volte ho detto mia nonna Scusate, anzi no scusa sto cazzo Questo è il mio video E faccio quello che mi pare Nonna 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 Nooo cazzo E' un nuovo ragazzo che verrà a fare i video con noi imbecille Un nuovo ragazzo gay Che si unisce la vostra orgia Ble Oh muovetevi cazzo potete rincoglioniti Guarda mi presento da solo Bella ragazzi sono Ghost Non il fantasma naturalmente Posso dire anche che il video finisce qua No cazzo questa è la mia presentazione Non la tua Quindi il video lo includo io Dove e quando voglio Quindi ciao a tutti i ragazzi dal grande Ghost Eh sì però ragazzi La gente di oggi Oh ma la gente di oggi No 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 Dynamic non voleva dire un cazzo Ciao a tutti ragazzi Il video finisce qua Con queste ultime parole Dello sfigato Dynamic Oh pezzo di merda Io non sono sfigato eh Bella a tutti ragazzi Spero che il video E la presentazione di Ghost Vi sia piaciuto Se ci state seguendo da tanto tempo Vi invito a mettere mi piace E commentare di cosa pensate di questo nuovo ragazzo Se invece siete nuovi Vi invito a scrivervi E mettere mi piace pure E diciamo a tutti ragazzi Alla prossima